Un promontorio anticiclonico interessa l'Europa centro-occidentale, mentre sui Balcani permane una depressione che fa fluire aria fresca in quota verso il Triveneto e quindi porta una certa instabilità. Per domani prevediamo sulla regione al mattino cielo sereno, nel pomeriggio maggiore variabilità in montagna, dove non è escluso qualche locale rovescio temporale, possibile comunque anche su altre zone della regione. Temperature minime in pianura attorno ai 10 gradi, massime attorno ai 25-26, attorno ai 22-23 invece sulla costa dove soffriranno venti di brezza. Anche domenica bel tempo al mattino con cielo in prevalenza sereno, poi nel pomeriggio un po' di variabilità in montagna e sulla fascia pedemontana, dove sarà possibile di nuovo qualche locale rovescio temporale. Brezza sulla costa e temperature massime attorno ai 25-26 gradi sulla pianura, attorno ai 22 sulla costa. Per lunedì il tempo rimane ancora un po' instabile, con bel tempo al mattino e possibile qualche locale rovescio in carne nel pomeriggio, per martedì possibile peggioramento. Dall'Osservatorio Meteorologico dell'ARPA, Livio Stefanotto.